Siracusa a Carlo Verdone chiude oggi la quattordicesima edizione dell'Ortigia Film Festival. Carlo Verdone sarà presente oggi a Siracusa per concludere la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival. All'Arena Minerva, alle 21, il grande attore e regista renderà omaggio allo scenografo Maurizio Marchitelli, con cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze, fino al 2006 con il film Il mio miglior nemico che gli è valso la candidatura al premio David di Donatello come miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie anche Sono pazzo di Iris Blonde, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, l'amore eterno finché dura. Per l'occasione sarà proiettato un inedito montaggio tratto dal making of di Mario Canale, curato da Luigi Rizza, con le musiche di Lele Marchitelli. L'incontro con Carlo Verdone sarà moderato da Steve Della Casa. Alla serata saranno presenti la moglie, il costumista Isabella Rizza, il fratello musicista Lele Marchitelli e Serena Dandini, con cui Maurizio Marchitelli negli anni ha collaborato curando le scenografie di diversi suoi programmi televisivi, alcune dei quali compaiono nell'omaggio realizzato da Mario Canale. Al termine dell'incontro Carlo Verdone riceverà il premio all'eccellenza cinematografica Ortigia Film Festival 14, attore, sceneggiatore, scrittore e regista dei grandi successi cinematografici e spesso in birico tra comicità e intimismo. E' l'autore che più di ogni altro ha saputo raccontare con sguardo acuto, dissacrante e sempre originale i cambiamenti della società e del costume degli italiani in oltre 40 anni. Nella sua carriera ha vinto 9 Davide Donatello, 9 Nasti d'Agento e 3 Globi d'Oro, oltre a numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero. A seguire alle 21.45 la cerimonia di premiazione dei film vincitori condotto da Steve Dallacasa, 3 le sezioni competitive in gara, il concorso lungometraggio opere prima e seconda, giudicato dalla giuria preseduta da Andrea Purgatore con Emanuele Fanelli e Giorgio Tirabassi, il concorso internazionale cortometraggi giudicato dalla giuria preseduta da Ernesto Assante e composto da Rosa Palasciano e Michela Di Nardo, e il concorso internazionale documentari giudicato dalla giuria preseduta da Federica Di Giacomo e composto dagli allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo.